Ben ritrovati ragazzi in un nuovo video tutorial su Red Dead Redemption 2, in questo caso sezione online, ma vale anche per quanto riguarda la sezione offline. Come faccio a pulire il cavallo? Un'altra domanda che mi è stata fatta. Allora, per prima cosa dovete entrare in una stalla, in una qualsiasi stalla, in questo caso io sono a Blackwater, e acquistare la spazzola. Se non avete la spazzola, chiaramente non potete pulire il vostro cavallo. Fate attenzione a non andare in finimenti per cavalli e servizi, molti acquistano questo qua, set per la cura del cavallo, è sbagliato. Non si riferisce alla spazzola, la spazzola voi la trovate in provviste per cavalli, e andate qua, vedete, in questa sezione spazzola per cavalli, costa 3,50$, una volta acquistata sarà per sempre vostra. Una volta acquistata, uscite dalla stalla, in questo caso usciamo, siamo noi nella sezione online, quindi speriamo che qualcuno non ci secchi. Ci avviciniamo verso il nostro cavallo, premiamo R2, in questo caso appare il nome, macchia, e vedete come seconda voce striglia, con la freccetta sinistra. Andiamo a premere, qui ci hanno invitato in una posta, andiamo a premere e il nostro cavallo verrà pulito, qualora noi avessimo appoggiato una preda insanguinata e quindi era sporco, oppure semplicemente per prendervi cura del vostro fidato destiero. Ok ragazzi, anche per questo tutorial è tutto, io a solito vi invito a lasciare un bel mi piace, un commentino qui sotto e noi ci vediamo ad un prossimo video.